Location. Questo è un posto unico al mondo. Vestito. Ho creato un abito a sirena anni 30. Decorazione. Con questa pelata mi prenderò un'insolazione oggi. Per Enzo i dettagli fanno la perfezione. Un tocco di colore cambia immediatamente tutto. E la perfezione non è un dettaglio. Mia nonna mi ha sempre detto che bisogna saper fare per poter comandare. Pronti? Sì! Mi putto anch'io in pista. Diario di un wedding planner. Da lunedì 11 maggio alle 14.50 su Real Time, canale 31. Grazie a tutti.